Mi sento benissimo, fino adesso di estate non ho saltato nessun allenamento, è vero che non ho giocato, mi manca la gara, ma mi sento bene, mi sento bene, sto lavorando bene, primo giorno di lavoro già, ho fatto tutto, l'addolo massimo, tanta intensità e veramente penso che è arrivato il momento di lasciare tutto alle spalle e tutto quello che ho passato. Un'impressione buonissima, mi aspettavo un po', però veramente sono sorpreso perché mi hanno trattato veramente, non bene, ma benissimo, quindi sono molto contento e sono sicuro che sono nella squadra giusta. Da fuori si vede che è una squadra che vuole crescere, perché tu vedi i notiziari, vedi che hanno fatto in stadio in poco tempo, vedi che i ragazzi sempre quando giocano mettono tutto, danno tutto, quello che ho visto anche lì a Roma, che stavo in panchina, quindi veramente penso che la squadra non merita questo posto in classifica e sono sicuro che possiamo fare bene e raggiungere l'obiettivo. A me piace tanto stare a casa, diciamo che mi piace giocare la Play, anche che a volte è anche un po' di litigata con mia moglie, però mi piace giocare la PlayStation. Ciao a tutti, spero veramente di fare benissimo qua e ci vediamo in stadio, forse a Castello. Grazie.